Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Negli ultimi giorni la conoscenza aumenterà. Conoscerai la verità. E la verità ti farà libero. Un programma creato per formare discepoli. Bene bene, bonso à tout le monde. Benvenuti in un'altra puntata di Conoscerete la verità. Un programma creato per edificare la tua fede affinché tu possa spostare le montagne. Sembra una pubblicità di lavatrice ma comunque funziona lo stesso. E questa mattina sapete che siamo ad Alghero. Abbiamo lo studio di Alghero. Dio ci ha dato una bellissima casa dove abbiamo potuto mettere uno studio di registrazione. E abbiamo la parte per gli ospiti, abbiamo la parte dove abitiamo noi. A volte si mescola un po' tutto, ma è bellissimo. Facciamo dei corsi qui ad Alghero d'estate nella testa del nostro centro. Vogliamo il centro, vogliamo il centro, tutti insieme. Vogliamo il centro, vogliamo il centro. E vogliamo il centro per formare studenti, per formare studenti che possano caricarsi spiritualmente, avere conoscenza. Se vedete il cane che va e viene, vieni Leo, vieni, vieni Macciuccio, vieni. Si vede un po'? Si vede? Lui è Leo, lui è Leo. Vieni amore, è un coccolone. Io volevo un pastore? Oh, sì amore, sì 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 sì. Ok, zampa? Zampa? Bravo amore. Volevo un cane aggressivo, un cane... E questo apre la porta, non la vai neanche dal postino, guarda te. Eh, ma è buono, è bravo. Il cane che serve per far togliere la paura ai bimbi, è vero? È vero? È vero, Leo? Bravo. Bene, comunque. Ok, ancora? Eh, vabbè, dai, dai. Va bene, adesso sì. Ancora? E diamo ancora una coccolata. Ma si vede, no? Si vede solo la testa. Si vede solo la testa, perfetto, perfetto. No, basta, basta, amore, basta. Basta, mi hai stancato. Metti la scelta in una... Ok. Abbiamo sistemato il cane. Ora, mi dice, ma che cosa fai con una pistola dei bambini? È che abbiamo comprato tre di queste, due per le bimbe. Sapete che io ho delle bimbe, non ho dei maschietti, ma sono un po' maschiace, grazie al papà. Gli abbiamo comprato delle pistole. Le pistole che lanciano, lanciano. La mamma è felicissima, è felicissima. Perché poi gli facciamo delle agguati e lanciano di quei cosi di gomma, no? A ripetizione addirittura. Ma come il nostro tecnico James, a volte non è così equipaggiato. È molto professionale, ma a volte non è così equipaggiato. Ho dovuto togliere le batterie per metterle al microfono. Per quello, se per colpa di James io vengo preso in un agguato e le bimbe mi strasparano e io non ho come difendermi, è colpa di James. Sapetelo, sapetelo. Comunque questi sono tosti, sono forti. Bene, non sapete come contenta mia moglie e anche mia mamma. Bene, la mettiamo qui, la teniamo a mano, non si sa mai. Ma pastore, tu sei un bambino, tu sei un bambino. Sì, lo dice Gesù, dobbiamo essere come dei bambini, dobbiamo cambiare e diventare come dei bambini. Non come delle adolescenti, perché nell'adolescenza dice che la malvagità si trova nel cuore. Perché nell'adolescenza? Perché l'adolescenza è quella fase di separazione della famiglia verso le cose del mondo. E se noi non abbiamo creato la fede, piano piano, ogni giorno, un po' della parola di Dio nei nostri figli, quando entrano nel mondo e si cominciano a staccare della famiglia, il diavolo si fa la festa. Ma non con i nostri figli, nel nome di Gesù. I nostri figli avranno un impatto in questa nazione, per la gloria di Dio, compreso i tuoi. Volevo parlare di qualcosa interessante oggi. Oggi era a pregare questa mattina, un bel tempo, pioveva, pioveva, ma è bello, è bello anche pregare sotto la pioggia. Ti viene, I sing it in the rain, pregavo lì, saltando tra, tra, come si chiamano i, le pozanghere, le pozanghere. Sì, tra pozanghere e pozanghere. E poi una non era una pozanghere, era un tombino aperto. Comunque, gloria a Dio, perché lui ci protegge anche in quello. E stavamo dicendo che... Ti immagini la cena? Ah, il te... Beh, comunque, smettiamo di sbabbinoare i babuini. Quindi, andiamo alla parola di Dio, andiamo alla parola di Dio, e abbiamo un tema, un tema, un tema interessante oggi, un tema interessante. Parlare un po' della morte, cosa dici? Cosa dici, James? Parliamo un po' della morte? Parlare un po' della morte, ma più della morte, parlare un po' del salvatore, dove andiamo dopo la morte, perché sappiamo che abbiamo tanti giovani che ci seguono, ma abbiamo anche nella TVN, su Facebook, siamo su Facebook, su YouTube non ho tanto, su YouTube carico più o meno quello che facciamo in Facebook, lo trapasso a YouTube, a richiesta di YouTubers che non seguono Facebook. Ma siamo nella pagina Facebook, e abbiamo un sacco di giovani che ci seguono, ma ho notato che abbiamo anche tante persone di una certa età che ci seguono, e ci contattano anche della TVN, abbiamo una nonina molto vela che è un po' che non sento, e sapete che io non posso seguire a tutti per quanto voglio, perché se dovrei seguire a tutti quelli che ci seguono non avrei tempo per niente. Sì, abbiamo uno staff che voglio ringraziare pubblicamente, il mio caro Pasquale, Gabriela, Gabriela che è la responsabile, Pasquale è il portavoce, sono tutti e due ministri, Pasquale è il portavoce, un sardo tosto di quelli fenomenali, con un'esperienza di vita grandiosa, Gabriela che è la moglie, lei è la responsabile del Dipartamento di Guarigione e Liberazione. Comunque abbiamo anche Cristina e Pepino che sono dei pastori, loro hanno una comunità a Capri, nell'isola dei Capri, loro se ne occupano nella formazione della cura pastorale per quelli che vogliono aprire delle comunità nelle casse. E abbiamo insieme anche Luca e Vanda che loro se ne occupano del lato organizzativo, l'organizzazione di una struttura, di una comunità in casa, tutto alla luce della scrittura. E poi abbiamo diversi responsabili, abbiamo Giuseppe e la dolce vita a Catania, abbiamo anche Sandro e sua moglie insieme a Mauro e Pina a Roma, e poi abbiamo all'isola d'Elva, anche altri responsabili come, come, allora io sono, che già mi vengono i nomi, questo è un miracolo, con Manu e Stella e poi abbiamo dei responsabili a Napoli, Mimmo e Lello, abbiamo anche Leo e sua moglie Stefania e Lello e sua moglie anche, che sono responsabili, e stanno sorgendo dei responsabili, non sono parte del nostro movimento, sottolineo qualcosa, Dio non ci ha chiamato a spandere un nome umano sulla terra, ci ha chiamato a spandere il regno di Dio, a me non mi interessa mettere banderine nei nomi o fare quello che io chiamo spesso franchising ecclesiastico, no, io non sono in quelle cose lì, perché non mi interessa entrare nel lavoro di un altro, prendere il credito di un lavoro di un altro, ma se mi interessa aiutare e servire al prossimo, qualunque esso sia, abbiamo persone che appartengono a delle comunità e con la benedizione del loro pastore fanno parte della scuola e sono una benedizione dentro le comunità, ci sono persone che vengono per essere formate e dentro le loro comunità creare dei departamenti di guarigione e liberazione, che è un ottimo lavoro che noi facciamo come parte del nostro ministero, ci sono altri che fanno la scuola biblica e poi diventano anche un braccio destro dei pastori in altre comunità, ci sono altri che fanno i corsi e ci creano un sacco nei guai in giro, perché una volta che hanno due versetti della bimba memoria si pensano che sono dei teologi, si mettono sopra il pastore e poi il pastore si arrabbia con noi. Le abbiamo anche quelli, ora non è il nostro desiderio creare divisione nelle chiese, ma edificare le chiese per quello, per quello solo qui. Poi ovviamente noi non possiamo cercare di vivere in una cupola di cristallo, ci sono, ci sono persone che sono invidiose, ci sono persone che si trovano in situazione dove quando un membro cresce, va beh, evitiamo, c'è lo spirito santo che mi dice stai zitto, stai zitto, stai zitto. Dell'altro lato noi ce ne occupiamo principalmente della formazione nella conoscenza della Sacra Scrittura. Abbiamo tre sessioni, potete scaricare la nostra brochure su uomo di... Ah guarda qua, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Ora guarda, se vai su... Vai Leo, vai, prendimi la brochure. È un cane molto viviente. Seduto, rotola, zampa, fai le schienese, adesso fai il tedesco. Benissimo, bravissimo, mamma mia che viviente il mio cane. Ora potete scaricare questa brochure dal sito, se vai sul sito ti scarichi questa brochure. Ora, sottolineo qualcosa, se tu vai sul sito non è proprio questa brochure, perché non è che ti esce dal televisore la brochure cartacea, ti uscirà in pdf. No, lo devo spiegare perché ci sono tanti libri che sono in pdf e a volte mi dicono, pastore non mi è arrivato il libro. E come ti fa arrivare il libro se è un libro in pdf, punto di domanda? Te lo scarichi del sito in pdf. E qui tu trovi quello che noi facciamo come ministero, il lavoro del nostro ministero. Che principalmente, lo mettiamo lì delicatamente, principalmente come stavo dicendo è scuola di formazione teologica, biblico-teologica, in quanto alla conoscenza, guarigione e liberazione. E come cominciare una comunità e una scuola biblica in casa. La comunità ha lo scopo evangelistico e le comunità in casa, le chiese in casa, come nei tempi della Bibbia, hanno lo scopo di essere evangelistico e le scuole bibliche in casa hanno lo scopo di discepolato. Per quello ci sono delle realtà, abbiamo dei pastori che collaborano con noi e hanno deciso di adottare questo sistema che è molto efficace in quanto a creare una solida base fondata sulla scrittura e mettere in pratica dentro la loro comunità, non delle cellule, ma delle proprie comunità connesse con il pastore, dirette dal pastore e supervisate dal pastore. Per cui il nostro punto di contatto è il pastore della comunità quando loro fanno questo lavoro. E devo dire che stanno avendo dell'ottimo risultato e ne sono fiero e la gloria sia sempre al Signore. Ma andiamo alla parola di Dio e partiamo con un concetto importante della morte, ma più che della morte, di Gesù, Gesù, colui che ci ha salvato. E come la fede in Gesù Cristo, perché uno mi dice, mi hanno chiesto l'altro giorno, ma scusa, come sono salvati quelli che sono venuti, quelli prima di Cristo? In che modo si salvavano? Beh, il popolo di Israele, da Abramo in poi, aveva la legge, aveva la legge e i profetti come punto riferimento. Se loro guardavano la legge e avevano la speranza in quel Messia che Mosè aveva detto che sarebbe venuto, la fede in quel Messia che sappiamo che Gesù, una fede verso il futuro, li avrebbe salvati a loro. E dell'altro lato, la fede nel Messia che è venuto ci ha salvato a loro. Nota che era un evento che ancora non era successo, anche se la Bibbia dice che Gesù Cristo è stato immolato prima della creazione. È stato immolato prima della creazione. Per quello quelli del popolo di Dio, quelli ebrei, venivano salvati nella speranza del Messia che per loro ancora deve venire, invece noi siamo salvati nella speranza del Messia, o nella certezza di quel Messia che è venuto duemila anni fa. Un evento che è successo duemila anni fa, che per loro doveva essere futuro, che per noi è passato, ma è sempre lo stesso evento che ha sempre potenza per salvare l'anima di colui che invoca il suo nome, il nostro Signore Gesù Cristo. E quelli che erano un popolo di Israele e non sono convertiti oggi, hanno il Vangelo. Se loro ascoltano la parola di Dio, saranno salvati. E se no, e tutto il resto, la Bibbia dice che la creazione parla di Dio e che ci ha dato una coscienza. Se tu mi dici gli africani della isola di Bungu Bungu, che non hanno mai sentito la famosa isola di Bungu Bungu, sei stato mai in l'isola di Bungu Bungu? Sono cannibali, a Natale, infatti, ti aspettano. Con una mela in bocca ti aspettano. Gli africani dell'isola di Bungu Bungu, che non hanno mai sentito parlare di Gesù, saranno giudicati secondo la loro coscienza. Può essere un cannibale salvato? Perché mi fate quelle domande complicate? Perché un cannibale può essere salvato, James? Dipende da chi si è mangiato. Ok, perfetto. Allora, adesso sì, andiamo alla parola di Dio. Abbiamo già quasi passato tutta la puntata parlando di cose, cose importanti che sono importanti. Bene, perfetto. Oggi è un po' informale questa... Sì, sì, è una puntata al tu per tu. Dove, ricordatevi che le linee sono aperte, se volete telefonate potete sentirvi liberi. Nel frattempo noi... Incredibili, come la prendono. Signore, ok. Anche i bambini ci seguono. Pronto? Pronto? Sì? Ok, ok. Ma per James? Questo lo dico a James? Posso dire che mi sembra un po' una presa in giro per James? Sì, so che non è molto normale, ma comunque... Vabbè, ve lo dirò dopo quando finiamo. James, era per te. Era importante, ma te lo dico dopo quando finiamo la puntata. Bene, ok, perfetto. Se possiamo andare avanti... Sì, tutto a posto. Allora, andiamo a Luca, capitolo 24, versetto 25. E parleremo della legge dei profeti, che era il preambolo di Cristo. Cioè, la legge dei profeti parlavano del Messia, che doveva venire e con il quale avrebbero trovato la vita eterna e la salvezza. Allora, ricordiamoci che in base a un paio di versetti che abbiamo letto, che forse li riciteremo nella prossima puntata, dove Abramo se ne andò in pace. E poi abbiamo visto in Isaia come che quelli che muoiono riposano in pace. Vuol dire che la transizione dalla vita alla morte dovrebbe essere, secondo la volontà di Dio, un qualcosa in pace, non un qualcosa di agonia, dolore. Ma questo lo vedremo, avete visto? Questo lo vedremo più avanti. Ma Luca, capitolo 24, 25, allora disse a loro, o insensati e tardi di cuore a credere, tardi di cuore a credere. Stimiamo qui il colidoscopio. Ecco, perfetto. E poi questo lo teniamo così. Sì, perfetto, benissimo. Lo tiene un po' più così. Benissimo. Ora, abbiamo visto che lui gli dice insensati e tardi, senza senso, senza ragione, tardi di cuore a credere. E per quello non potevano riconoscere Gesù Cristo, perché secondo la Corintesi 4,4 dice che il Dio di questo secolo, cioè Satana, ha cecato la mente delle incredule. E per quello loro non riuscivano a vedere Gesù Cristo, perché non credevano. A credere tutte le cose, notate questo, che i profeti, che i profeti hanno detto. Non doveva Cristo soffrire tale cose, così entrare nella sua gloria. E cominciando, notate questo, cominciando da Mosè e tutti i profeti, spiegò loro tutte le scritture, le cose che lo riguardavano. Cioè, tutto quello che Mosè e i profeti dicevano nella legge riguardo alla venuta del Messias. E che cosa fa? La prima cosa che fa è aprire le scritture. Per chi non conosce la storia, la prima cosa che fa è aprire le scritture e poi, quando arriva a casa loro, spezza il pane e si aprono gli occhi. Ora, spezzare il pane è diverso della cena del Signore. State attenti, sono due cose diverse. Una cosa è la cena del Signore. Era un evento che si faceva ogni tanto quando si radunavano tutte le comunità che c'erano nelle case e in un luogo. E ora, quando tutte le comunità, quando parla della Chiesa di Roma, non è che c'era un edificio, erano tutti credenti che si trovavano generalmente tutti i giorni nella casa a condividere e a spezzare il pane. Spezza il significato di spezzare il pane, con il quale Gesù Cristo ha aperto le occhi, cioè, o si sono aperti le occhi, Gesù non li apre le occhi, si sono aperti le occhi, dice, quando hanno visto il pane spezzarsi, il pane rappresenta il corpo di Cristo. Nella cena del Signore, il pane non rappresenta il corpo di Cristo come Chiesa, ma bensì come il suo corpo, che è stato dato per le nostre infermità. Il vino rappresenta il sangue dove c'è la vita, il vino ci perdona dei peccati, il sangue ci perdona dei peccati, il pane, quando rappresenta il suo corpo, ci guarisce di ogni infermità. Per le sue ferite, noi siamo stati guariti. Per quello Dio mette sempre alla pari la guarigione, il perdono e la guarigione. E questo lo vedi spesso, lo vedi nel Salmo 103, dove dice, Egli guarisce tutte le tue infermità, Egli perdona tutte le iniquità, guarisce tutte le tue infermità. E poi lo vedi quando vedi lo zoppo, gli dice, i tuoi peccati sono perdonati. E i farisei si manifestano e cominciano a dire, come, come, chi è questo qua, dice che può perdonare i peccati, che è questo qua. E Gesù si gira, conoscendo i loro pensieri, e dice, che cosa è più facile dire? Alzate e cammina, o i tuoi peccati sono perdonati. Affinché vediate che il figlio di Dio ha autorità per perdonare i peccati, allo zoppo disse, Alzate e cammina. E così possiamo, per mezzo di quella guarigione, comprendere che Gesù mette sempre alla pari. E ci ha dato anche noi l'autorità di perdonare i peccati. Dove è scritto? Dove è scritto? Ehi, calmati un po', eh. Non arrabbiarti con me. Dove è scritto? Nella Bibbia! Non dice la Bibbia, se vedi tuo fratello precare, prega e gli sarà data la vita? Pronto? Non dice la Bibbia, pregate le un e gli altri, confessate i vostri peccati le un e gli altri, e pregate affinché siate guariti? Nota, e dice, c'è qualcuno malato? Chiamate gli anziani, e li ungeranno con olio, e si avrà commesso un peccato, e la preghiera di fede lo salverà, e si avrà commesso qualche peccato, li sarà perdonato. Ehi, non dice che il malato sia ravveduto di quel peccato, ma noi abbiamo l'autorità di pregare per quelli che sono in peccato affinché Dio li dia vita. Ora, dall'altro lato stavamo dicendo che James, aggiornami, il perdono dei peccati. Ora, la cena del Signore, grazie James, bravissimo, stai seguendo il filo, è una cosa incredibile. Ora, quando mi segue James è una cosa tremenda. Allora, vi stavo dicendo che la differenza tra spezzare il pane e la cena del Signore, e poi continueremo con questo studio, nella seconda puntata. Ora, il pane rappresenta il corpo di Cristo quando si trovavano le case, spezzavano il pane, non si prendeva il vino. Perché? Perché in quel caso il pane rappresentava il corpo di Cristo, come quando Gesù Cristo entra nella casa dei due discepoli di Maus, spezza il pane e si aprono gli occhi. Perché spezzare il pane vuol dire morire a se stesso. E ora, prima che Dio ti possa moltiplicare, ti devi spezzare per forza. Cioè, non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questo lo vede nella moltiplicazione dei pani. Non stava facendo la cena del Signore, lui prende il pane, lo benedisse, lo rupe e poi lo diede ai discepoli e si moltiplicò. Per cui molti credenti non si moltiplicano perché non vengono mai spezzati. Invece la cena del Signore che la troviamo in Corinzi, capitolo 11, se non mi sbaglio, dove per rivelazione, e lo troviamo anche nei Vangeli, per rivelazione Paolo parla e dice questo è quello che il Signore mi ha detto direttamente che nella notte in cui doveva essere tradito lui prese il pane, lo benedisse, lo rupe e lo diede ai suoi discepoli, allo stesso modo prese il vino e disse questo è il patto nel nuovo sangue dato per voi e poi ne bevono tutti e dice fate questo in memoria di me perché ogni volta che lo prendete vi ricordate della mia morte finché io venga. E allora notate che il significato della cena del Signore o la Santa Cena o la comunione è quella di ricordarsi non solo che lui ha morto per i miei peccati ma che lui ritorna e spesso quando noi facciamo soprattutto nelle chiese protestanti si fa la cena del Signore si ricorda solo che lui è morto per me e si ringrazia per la morte ma non si parla mai della gioia e della festa del ritorno di Gesù Cristo che è un tempo di festa non è un tempo di tristezza e nella chiesa cattolica nella chiesa protestante nella chiesa ortodossa l'ofano secondo è stato stabilito da Gesù e confermato da Paolo perché se dobbiamo farlo veramente come Dio lo ha comandato deve perseguire o essere parte di una cena non di un pranzo ma una cena la cena del Signore o la santa cena dove prima si prende il pane in alcuni casi si prende il pane e il vino o si prende il pane e alla fine della cena il vino dove è un momento di festa dove è un momento di celebrazione perché il Signore torna inizialmente inizialmente è un momento sacro dove ricordiamo la morte per i nostri peccati ma poi nel presente viviamo una vita in resurrezione in vittoria gioiendo del fatto che il Signore torna e la chiesa dice torna Signore Amen e Amen Bene ragazzi io vi benedico vi strabenedico sostenete la TCI con le vostre offerte abbiamo bisogno hanno bisogno di voi e delle nostre offerte per andare avanti e predicare il Vangelo in tutta questa nazione forse tu non hai la possibilità di viaggiare in questa nazione predicando il Vangelo ma si hai la possibilità con un'auto offerta di sostenere questa televisione affinché la TVN possa continuare a predicare il Vangelo in tutta questa nazione e in tutto il mondo ci vediamo la prossima e Dio vi benedica ciao grazie a tutti